...e abbiamo pronto per il decollo un altro grandissimo Asgaumio Taviani, Otto Fly, lui di una passione l'ha fatto diventare un lavoro. Quindi loro praticamente si divertono lavorando. Sì, 33 è offline. Valentino Aglio conosce che sia manca a casa. Lino del naso, qui è la console, Lino del naso. Ok, io sono andato a dormire. Allora, stavano dicendo Claudio Taviani con questo bellissimo Occh MKK. Una delle macchine più spettacolari. Dalla librea alla forma a me. Questo aeroplano veramente mi fa infazzire. Lo ritengo più bello. Che gli altri non me lo vogliono. Però ognuno abbiamo le nostre preferenze logicamente. E secondo me L'Occh è l'aereo più bello. La scena è la scena. Eccolo qua. Eccolo qua. Quattro venti. Quattro venti. Quattro venti. L'Occh è costruito dalla ditta Tomo che è tedesca. Aspetta qua, è in scala con 4 metri suoni di diametri, 4 metri di preso, comunque è molto vicino a me di dire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.